Guardi i cerneccali, ora io gli dico la verità. Io sono molto d'accordo di questa cosa che ha detto Rampelli, il vicepresidente della Camera, capito? Questa cosa che bisogna dare le multe dai 5 ai 100 mila euro per chi che usa queste lingue straniere, insomma, che siamo veramente invasi da questo stranierismo che c'è. Nessuno che parla più in italiano come che parlo io, capisce? E questa è una cosa importante perché è giusto anche queste cose qui fare. Farsi per le lingue antiche, per esempio, anche noi sappiamo che siamo un pochettino più colti, noi sappiamo che i salmi si leggevano in lingue antiche, per esempio, si chiamano proprio le lingue salmistrate perché erano dei salmi, capisce? E adesso invece ci sono delle cose che ha bisogno e basta con queste lingue che non c'entrano con la nostra lingua. Allora multe da 5 a 100 mila euro e io sarei anche per il taglio, insomma, delle a mano. Se la vuoi faremo una registrazione ufficiale di una dichiarazione ufficiale. Facciamo una registrazione che ho preparato qui per una dichiarazione ufficiale che mi sono scritto sulla questione, benissimo. Allora carissime triestine, carissimi triestini, sono a favore della legge del dottor Rampelli perché c'è bisogno di uno stop. No, aspetti, no, stop è una parola in inglese, sarei da cambiarla. No, stop non va bene. Una frenata decisa all'uso indiscriminato delle parole straniere, soprattutto oggi che siamo tutti in internet. No, internet la metti in rete. In rete e i nostri computer. No, computer è una parola in inglese. E laboratori. I nostri laboratori sono pieni di pagine ragnatele e basta mettere la mano sul topo e premere con l'indice con la freccia appoggiata su un'icona apposita in modo da selezionarla col tipico suono tipo quello delle macchine fotografiche. Cioè? In che senso? Click. Posso dire click? Ah! Come? Ma le macchine non fanno più click adesso? No. E io avevo una vecchia Canon che capisce che faceva click, mi ricordo. No, Canon non si può dire. Ok. No, ok non si può dire. Eh, ok. No, non si può dire ok. Non mi entra. Va bene, andiamo avanti. Comunque io avevo una vecchia Canon che non si può dire. No, non si può. Avevo una vecchia carcere che faceva click, non è inglese. Click? Ermafrodita, una parola di quelle... Eh, Ermafrodita? Come si chiama? Quella roba delle parole che somiglia ai rumori. Ermafrodita, onomatopeico. Ecco, beh insomma è uguale. Allora ad un certo punto sei lì col tuo topo e col tuo elaboratore e tutto dubbioso ti domandi. Domandi. No, mandis è furlani. Non si può dire. Ma si possono anche dire degli amici furlani? Allora, e cosa dico allora? Eh, me ti chiedi. E quando dubbioso ti do chiedi? Sì. Se dagli appennini alle due le omiti... No, eh no, ah. Do, se è triste, do le omiti, no va bene. Due le omiti. Sì. Se dagli appennini alle due le omiti ci sia la stessa cultura. La risposta è sì. Perfetto. Bisogna guardare gli obiettivi utili al progresso. Anche noi con la galleria di Piazza Foraggi. Ma pare che Forze in inglese non va bene. No. Eh, Piazza Quattro Agi. Quattro Agi. Quattro Agi. Abbiamo dimostrato che tutto si può fare. Benissimo. Ecco questa cosa. Il vostro sindaco Roberto Di Piazza... Posso dire Di Piazza o DiP vuol dire qualcosa... Cosa vuol dire DiP? DiP vuol dire profondo in realtà. Non posso dire Di Piazza? Niente. Eh DiP no va bene. E non posso dire sta cosa dai. DiP se è profondo. Perfetto via. Ecco cari amici non sono d'accordo col signor Rampelli per quanto apprezzi la presenza però veramente mi si girano gli occhi se devo stare attento a ogni parola che dico. Le donne che hanno questo il velo tipo no? Le donne musulmane che hanno il velo possiamo dire che sono nostre come di noi perché sono alla bardate capisce perché avendo questa cosa è una cosa molto bella. capisci quindi alla bardate. Allora mettiamo così alla comunque è una cultura che non appartiene necessariamente a quella italiana. A Dio bardate. Dio bardate. A Dio bardate. Le donne a Dio bardate. Le donne a Dio bardate. Sono donne leopardate e donne a Dio bardate insomma seconda.